Tavolo infuocato questa mattina presso la sala giunta del comune di Ariano Erpino, le addette alle pulizie presso gli uffici di Palazzo di Città contestano un bando temporaneo di una ventina di giorni che non darebbe spazio a 12 di loro, tra l'altro da anni impegnate in queste attività. Non c'è intesa perché c'è un problema a monte, nel senso che questa gara, che non è una novità, scadeva il 30 di settembre e l'amministrazione non ha programmato in tempo utile una nuova gara. Quindi oggi ci troviamo di fronte a che cosa? A lavoratori che non prendono i soldi da sei mesi. La gara non è stata effettuata o almeno è partita adesso la procedura e è stato fatto un affidamento temporaneo ad una ditta che non sta utilizzando nemmeno una parte dei lavoratori interessati o solo qualcuno. Questo ovviamente per noi è un problema di responsabilità perché arriva in ritardo sulla programmazione e c'è un disagio sociale che è talmente palese per cui porta le persone a protestare. E la guglia che cosa farà? Noi stiamo qua per protestare correttamente e per rimarcare un concetto che i diritti vanno tutelati e le leggi vanno rispettate. Acceso confronto tra il sindacato, la UIL con Michele Caso e l'assessore Filomena Gambacorta per trovare un punto di incontro. È stata pubblicata la nuova gara per l'affidamento dei servizi di pulizia presso i locali comunali nella quale è previsto l'integrale riassorbimento del personale. È chiaro che l'affidamento di questo servizio che prevede una gara pubblica che ripeto già è stata pubblicata prevede dei termi tecnici per completarsi. Anche perché ci è voluto qualche giorno in più per la pubblicazione proprio perché sono state reperite delle somme aggiuntive da mettere sul cantiere. Sono state riorganizzate i lavori e quindi si è adesso in attesa delle cooperative che vorranno partecipare. In via temporanea e chiaramente urgenza e provvisore c'è stato un affidamento di 20 giorni ad una ditta per la pulizia dei bagni per ovvi motivi e questo ha creato delle preoccupazioni legittimissime da parte delle signore che hanno sempre lavorato per il Comune fino al 31 settembre. Preoccupazioni che non devono avere perché l'amministrazione si è impegnata con la gara a chiedere l'integrale riassorbimento delle maestranze in servizio fino al 31 settembre ma per garantire che ciò avvenisse ha anche stanziato il 5% in più della gara precedente cioè 10.000 euro in più su questo cantiere.